Il Cloud Hosting Multidominio permette di assegnare e modificare in tempo reale le risorse di RAM sui singoli domini. Dalla Dashboard, cerchiamo il pacchetto di hosting di cui vogliamo monitorare le risorse ed entriamo all'interno della scheda Servizio. Cliccando su Distribuzione RAM, visualizzeremo la pagina in cui sono visibili i valori di RAM assegnati ai singoli domini. La RAM rappresenta il driver che permette di modificare le altre risorse computazionali in base alle fasce definite dallo staff tecnico di Aruba Business. All'interno del dominio abcloudhosting.it, clicchiamo su Dettagli fascia per visualizzare la finestra informativa. È importante sottolineare che per valori di RAM allocata maggiori o uguali a 128 MB, il sistema assegna automaticamente un GB gratuito di RAM aggiuntiva per la gestione dei picchi di utilizzo. Le altre risorse sono consultabili direttamente da questa tabella in cui vediamo come al variare della RAM variano per il dominio i valori di CPU, IO, IOPS, Entry Process e numero di processi. Tornando alla scheda Servizio del dominio di interesse e cliccando su Statistiche, è possibile monitorare l'utilizzo della RAM. Dal menu a tendina possiamo scegliere il periodo di riferimento, ad esempio prendiamo gli ultimi 30 giorni. Il sistema mostra in arancione la RAM allocata da pannello, in rosso il valore della RAM disponibile che tiene conto del GB di RAM bonus ed in azzurro la RAM utilizzata. Sempre da questa area è possibile monitorare l'utilizzo su base oraria e decidere se ricevere un avviso quando il valore della RAM usata in azzurro raggiunge il 90% della RAM disponibile in rosso. Grazie a tutti!